Seguimi e ti porto in questa dimora di rappresentanza nel centro di Milano di 4165 metri quadrati, calpestabili. Ma vieni con me, i soffit sono very alt e tu puoi giocare anche a basket. Io sei matto Vittorio? Cosa? Ma mi rovini questi pavimenti, condotti a terrazzo con smalti da elegantissimi artisti veneziani. Very very smart. Grande salone, o meglio il salotto di Milano, soffitto alto 47 metri, ma la vera killer application è questo toro incastonato in questo meraviglioso mosaico che, for a good luck, tre giri sulle balle del toro. Abbiamo un'area di divani, conversazione, tv molto raccolta, very cozy. E poi puoi assistere a qualche spettacolo teatrale. Very stunning. Da questo lato la faccio al piccolo cortile pass-through che conduce alla cappella privata. The big chies, every domenica, you can go. E poi abbiamo questa grande cucina abitabile, realizzata su misura, dove gustare pranzi e cene stellati. Però mamma, tu cucini meglio, eh? Ci credo. Per tutto l'immobile, la richiesta è perfetta, ha offerta. Potete offrire quello che avete, non vi preoccupate. Ma cosa stai dicendo? Ma sei impazzito? Vabbè, ma è una cosa così. Vittorio, guarda, no, non è cosa per te. You are fired. Vittorio, guarda, no, non è cosa per te.